Intervento dei vigili del fuoco di Bosco Nero nel pomeriggio di sabato 1 maggio, intorno alle 17.30, in strada della Chiara, frazione Mastri, territorio di Feletto e Bosco Nero. L'impianto di depurazione, forza causa di grigli otturate, ha iniziato a sversare reflui. L'area sta allagata, finendo nel fossato che circonda l'impianto e stradipando poi nei campi. Allertata la SMAT, proprietaria del depuratore, sono intervenuti i tecnici da Castiglione Torinese per cercare di riparare il danno. Sul posto sono sopraggiunti anche il sindaco e l'assessore di Bosco Nero, rispettivamente Paola Forneris e Renato Ferro, seppur l'impianto si trovi di fatto sul territorio di Feletto. Grazie. 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 Grazie.